Andre, 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 lo sai che il coronavirus ho scoperto che si sconfigge con l'alcol? Non penso a quel tipo di alcol, anche perché se poi devi guidare l'etilometro... Ma l'hanno sospeso! Fabio, a causa di questo virus il Ministero della Salute ha vietato tutte le attività sportive, i matrimoni e anche i funerali. E... oh, praticamente tu stasettimana non puoi morire, non puoi morire, non puoi morire! Allora torno indietro nel tempo. Andre, 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 ho scoperto che il coronavirus si sconfigge con l'alcol! E cosa c'entra la pasta? E al supermercato era rimasto solo questo, oh, le penne lisce, non se le caga nessuno! Fabio, ma che cazzo fai? Ci sto proteggendo!